potrebbe starci bene anche questa questa come together di junkie xl perché si entra in una modalità un pochino gigantesca mostruosa e enorme perché appunto come sentivate nel sommario siamo entrati in contatto o comunque siamo entrati nel mondo del manga senza senza saperne tantissimo però che cosa si fa quando non sai qualcosa si chiede certo ci si informa ci si informa nel nostro caso abbiamo quasi pedinato la star comics con quello che sentirete tra poco è una sorta di spezzatino o anche un'intervista che abbiamo registrato anzi personalmente registrato sia a lucca che a roma in due momenti diversi con gli esponenti della casa editrice che da 35 anni 30 sicuramente porta i manga in italia ce ne sono altre ce ne sono state sono nate subito dopo ma la star comics prima addirittura portava i marvel quindi tutto ciò che era adesso spider-man e quant'altro la golden age è arrivata 35 anni fa in italia grazie a loro e poi successivamente sono arrivati tutti i grandi classiconi io per esempio mi sono ritrovato a leggere kaiju numero 8 che è l'albo che ho in mano ma che soprattutto è al centro di questo di questo di questa chiacchierata aprendolo ho risentito lo stesso profumo che sentivo quando leggevo dragon ball perché in passato ho anche letto dragon ball io leggevo la rama di questo genere qua diciamo ti ricordi quel profumo un pochino dolcino di tra carta e inchiostro sì 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 credo temo visto anche l'ho chiesto anche a uno dei nostri due ospiti che sia proprio il mix di carta e inchiostro della star comics perché e perché ne parliamo adesso sia perché è uscito è uscito anzi sia l'albo numero uno che nell'edizione una delle edizioni più lussuose cioè il primo e il secondo volume di questo di questo lavoro del del mangaka non uso guarda uso termini con grande grande pavidità grande timore sì non mi coinvolgere perché io ne so ancora meno di te l'autore è Naoya Matsumoto e ha realizzato questo questo manga questo shonen leggo mi sono anche un po' documentato anzi anche sentendo le presentazioni lo shonen dovrebbe essere anzi lo è il lo stile anzi il genere meglio il genere di manga che racconta storie di formazione di ragazzi coming of age sì però in una in un contesto molto attivo con grande azione prima di parlare di kaiju numero 8 però giustamente tu hai raccontato comunque hai fotografato la situazione manga come una una situazione in Italia molto fertile sì in questo momento c'è una vera e propria guerra in atto sulle classifiche di vendita perché come sentivamo anche anzi sentiamo da più di 30 episodi all'interno delle discorse con le librerie sia in libreria ma anche in classifica nella classifica principale quella dei propri più venduti c'è quasi sempre un manga sì e questo può risultare una una cosa nuova o comunque un un evento speciale un boom però appunto ho chiesto proprio a Claudia Bovini che è la direttrice editoriale di Star Comics numi su questa su questo evento perché appunto boom da un po' diventa anche un qualcosa da richiamare in un altro motivo in un altro modo appunto l'ho sentito ho incontrato Claudia Bovini a Lucca ed è questo quello che ci ha raccontato Allora molto bene diciamo che per noi è un periodo estremamente interessante perché stiamo crescendo ma non in questo istante diciamo ma già da qualche anno il trend di crescita si è innescato già da 2017 chiaramente la pandemia ha dato un boost alla nostra crescita riportando soprattutto alla ribalta quello che è il core business di Star Comics quindi i manga adesso il mercato è estremamente tutti i riflettori sono puntati sul manga e di conseguenza anche su Star Comics anche perché comunque il prossimo anno noi stacchiamo il cartellino dei 35 anni di attività dei quali quasi tutti sono stati spesi a lavorare nel comparto manga quindi portando negli anni 90 grandi successi che poi tra l'altro oggi pian piano stanno anche tornando fuori infatti è quello che ci diciamo qualche volta sembra che stiamo vivendo una seconda ondata degli anni 90 c'è tantissimo interesse verso titoli del passato di grandi autori del passato oltre che i classici big del momento chiaramente perché noi grazie al cielo abbiamo in catalogo big evergreen come Dragon Ball One Piece ma anche nuove stelle emergenti come Mayor Academy e Demon Slayer però appunto con tanta esperienza alle spalle abbiamo anche una profondità di catalogo notevole che recentemente ha fatto sì che venissero riscoperti dei titoli molto importanti quindi come sta andando sta andando alla grande però tutto questo voglio ricordare che è frutto anche di un sacrificio perché noi ci sputiamo il sangue sopra questo lavoro che facciamo tutti i giorni e ci impegniamo molto cerchiamo di essere rispettosi cerchiamo di essere attenti di venire incontro alle esigenze del pubblico in un momento che è anche piuttosto difficile perché ok il manga è in crescita ma il mercato è instabile perché ci sono tanti problemi l'approvvigionamento della carta è difficile causa questo boom incredibile che stiamo subendo quindi ogni giorno c'è una sfida nuova da gestire però noi ci ritorniamo di fretta e andiamo avanti la domanda si era esattamente come va una domanda complicata da gestire specialmente avete sentito esattamente nel fondo il caos è quello di Lucca ovviamente eravamo al centro della piazza principale di Lucca quindi lo stand Star Comics era gigantesco ma giganteggiava anche all'interno della piazza principale sono andata a ricontrollare in effetti nel 2017 Star Comics ha ripubblicato per esempio Ranma Mezzo che è quasi l'unico manga che no interamente è l'unico manga che io abbia mai letto poi ne ho letti altri però pezzettini ma sicuramente di questo ho tutta una una collezione insomma di quando uscì negli anni sì 90 fine 90 inizi 2000 poi effettivamente come uscirà anche dopo il ricircolo delle storie è anche dettato da quanti passaggi e quali i passaggi degli anime cioè le versioni animate dei manga passano in televisione quindi per esempio io ho conosciuto Ranma non perché l'ho letto ma perché l'ho visto in televisione stessa cosa ho iniziato a leggere Dragon Ball dopo aver iniziato a vedere il cartone sì va detto che adesso credo che il rapporto diciamo dei ragazzini con la televisione sia un po' diverso rispetto a come era ai nostri tempi è molto meno stretto e sicuramente la fonte non è l'unico la televisione non è l'unica fonte di approvvigionamento per quanto riguarda gli anime anzi credo che sia una delle minori in questo momento soprattutto per gli adolescenti che hanno internet chiaramente quindi internet e gli streaming per cui vedono altre cose da altre parti però certo questo passaggio c'è e proprio grazie a questo questa libertà di fruizione si è creato un vero e proprio una grandissima attesa per questo Kaiju numero 8 sia dalla parte editoriale cioè appunto il buzz o comunque il sentore di grandissimo successo era partito già poco dopo questa intervista che l'abbiamo fatta a Luca quindi era ottobre novembre dell'anno scorso e subito dopo in quella situazione il Christian Posocco aveva già una maglietta di Kaiju numero 8 addosso l'ho collegato rimontando questa intervista effettivamente come ci ha raccontato le trattative per portarlo in Italia e tra l'altro portarlo senza una versione anime già all'attivo si ne sta parlando sono arrivate le prime conferme non c'è l'ufficialità certa ma Kaiju numero 8 dovrebbe avere anche la versione anime ma arriva in Italia dopo un grandissimo successo sia nella versione e nel mercato giapponese sia appunto attraverso questo grande interesse degli amanti che banalmente vanno a leggere direttamente dalla fonte quindi che cos'è Kaiju numero 8 è una storia appunto di formazione ma dove ci sono i mostri all'interno i Kaiju sono i mostroni i mostri le animali strani tipo Godzilla domanda da Godzilla in poi tutto ciò che è grandissimo è sproporzionato e distrugge tendenzialmente tutte le città quello è un Kaiju spesso di origine nucleare mi sembra di capire vaga anzi no esattamente come insegna la tradizione ma anche Pacific Rim di Gielmo del Toro spuntano così e il problema è quello che spuntano così e Matsumoto tra l'altro spero che nelle prossime nei prossimi albi indurrà cioè si concentrerà un pochino più sul contesto meno sui personaggi che però sono molto godibili però appunto il mio gusto forse da profano mi è molto incuriosito il fatto che il centro del problema sono i Kaiju ok ma è un problema già sodato i Kaiju sono una realtà e il problema è che distruggono la città ma soprattutto c'è una le forze speciali hanno anzi le forze di difesa sono talmente abili che li gestiscono per non dire li massacrano di botte però cosa fai poi con i resti qui arriva il protagonista ambientale un problema di gestione dei rifiuti infatti il protagonista di Kaiju numero 8 è Virginia Raggi no è Kafka e qui ci sta anche là Abino Ibino scusate che lavora letteralmente in un'impresa specializzata nello smaltimento delle carcasse dei Kaiju veramente molto molto divertente e anche molto ben rappresentato anche perché questo personaggio sulla trentina non proprio informissima voleva fortissimamente entrare nelle forze di difesa e quindi all'interno della storia c'è ovviamente una grande grande proiezione verso ah quelli sono fichissimi prima o poi diventerò come loro però ho 30 anni quindi c'è difficoltà i treni sono un po' passati lui ha spesso fatto richiesta sottoposto all'esame di ammissione ma non è mai passato oltre la prova fisica questo è l'innesco poi succederà qualcosa che porterà il super problema dentro il super il protagonista e il nome di questo protagonista vi potrebbe raccontare molto questo non è la storia ma il fenomeno Kaiju numero 8 era talmente più sproporzionato anche perché esce in edicola anzi in edicola in libreria con una serie di box edizioni di super lusso che fanno veramente impallidire le collector edition di signore degli anelli grandissime produzioni e ho chiesto proprio a Christian Possoco cosa rende Kaiju numero 8 Kaiju numero 8 cioè cosa quale motivazione ha dato perché spingere così tanto tantissimo tantissimo ma proprio il fumetto che cosa ha di specialissimo Kaiju numero 8 è un manga di una potenza portentosa potente perché riesce a far arrivare le emozioni le interiorità dei protagonisti la forza dell'azione la violenza dei mostri in maniera direttissima i manga sono una forma di fumetto molto particolare in Giappone si scrive tramite ideogrammi quindi si cresce in Giappone crescono in un ambiente dominato dai simboli perché la scrittura ideografica è una scrittura che fa leva su simboli grafici non sono dei fonemi non sono dei segni a cui corrisponde un suono e poi ricostruendo il suono io ricostruisco il significato della parola quindi con diversi passaggi la scrittura giapponese è una scrittura in cui il segno comunica subito il significato e poi arriva il suono anzi il suono può dipendere quello che non cambierà mai il significato cioè quindi con un semplice segno semplicissimo io veicolo un sacco di idee di significati e io penso che la grafica dei manga sia una grafica che segue questo imprinting dei giapponesi e quindi molto simbolica un'immagine deve portare da sola tanti significati questo quindi può diventare un po' complesso da approcciare a chi non è abituato a fare quest'opera di sintesi diretta del significato o appunto chi è abituato a una maggiore cooperazione del testo con le immagini perché insomma comunque ci sono delle forme di fumetto in cui la parte testuale è importante e significativa per portare avanti la narrazione e questo è dovuto sia a ragioni culturali sia anche a esigenze produttive perché in Giappone io ho le 20 pagine dell'episodio da riempire e io devo far andare a stare in un certo modo seguendo certe regole tecniche soprattutto a livello di sceneggiatura c'è una struttura che non è quella della narrativa classica occidentale post-sheckspiriana ma è una struttura che si basa sul teatro sulla drammaturgia sulla poesia cinese e ha un senso diverso e anche in questo senso anche l'utilizzo del testo diventa molto diverso io non ho bisogno di magari ho un albo che sono in 100 pagine e devo fare una storia intera e quindi devo far portare avanti la storia no io se ho successo posso portare avanti la storia più avanti e dire altre cose devo avere una storia ad un certo punto mi prendo un certo spazio e devo portare avanti il più possibile con le immagini e questo è dei pro dei contro però se lo fai bene se lo fai bene se riesci veramente solo con le immagini a portare avanti i personaggi le situazioni le loro interiorità allora stai facendo qualcosa di potentissimo ed è per quello che poi quando questo succede perché lo fai bene il successo a questi livelli e questo è il centro è anche il motivo per cui ha spinto sia questo è un po' socco ma tutta la Star Comics di portare il cage numero 8 in Italia dicevo un'edizione tantissime edizioni anche piuttosto lussuose vado a leggerle semplicemente le caratteristiche c'è l'edizione normale questa qui senza allegati poi c'è una regular con puzzle e due illustration card e quindi siamo seconda edizione poi c'è una mostruosus box ovvero c'è una statuina che ci sta no c'è la spilletta il portachiavi il magneto la star card ma soprattutto ha due volumi ok anche i prezzi sono abbordabili e sono anche parte della strategia anche di che ci raccontavano i ragazzini no 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 non solo poi ne sentirai quindi siamo alla terza edizione poi variant cover edition poi la limit edition siamo quindi a cinque versioni dove insieme a tutte le precedenti c'è la versione da libreria e store online ma anche la versione con perfumetteria con quattro segnalibri in pvc e quattro in effetto metallizzato insomma una edizione delle edizioni proprio mostruose e proprio a proposito di questo ho chiesto ma poi si sono anche andati oltre perché c'è anche un'invasione della metropolitana ma ne parleremo tra poco sempre Cristian Posocco quello che sentite è la Filtrinelli di Viale Marconi ama particolarmente il blues come avete sentito ma accanto c'era un attacco di un bimbo che giocava con un aggeggino eh sì ringraziamo ringraziamo il bimbo grazie le edizioni aveva una doppia violenza dal suo punto di vista direttamente serve a promuovere in maniera forte l'opera perché tu dai un segnale chiaro al movimento del fumetto non solo dei lettori ma tutto il movimento distribuzione negozi agenti che questa è una serie in cui credi tantissimo questa è una serie su cui punti tantissimo questa è una serie di livello top l'altro effetto indiretto forse di questa cosa è che facendo questo progetto a monte tu crei una leva in più per convincere il senso giapponese a consegerti quella licenza perché gli dimostri quanto effettivamente ti stai credendo e quanto tu ti ci vuoi impegnare ma a un certo punto abbiamo deciso che dove volevamo fare un cambio di marcia alla nostra comunicazione l'anno scorso direi e Kaiju era una grande occasione per cominciare a fare questo tipo di approccio perché era il nuovo lancio più forte che ci trovavamo fra le mani arrivava proprio nel momento giusto per come è andato il mercato per come è andata Star Comics e avere una serie di brutto dirlo adesso magari fra due anni ci farà una figura meschina però di sicuro successo io francamente non mi sono mai trovato come con Kaiju ad avere la percezione quasi fisica del successo che avrebbe ottenuto non è come un Demon Slayer un Mario Academia che sono delle ottime opere che sai che hanno che andranno bene magari non ti immagini così bene all'inizio poi è facile ma all'inizio difficile con Kaiju invece è così ci immaginiamo fin dall'inizio oltretutto manca completamente la trasposizione esatto tu immagina dove potrà arrivare quando se arriverà io vedendo tante scene del fumetto che appunto sono molto esaltanti quanto questa esaltazione verrà comunicata ancora di più a un pubblico più vasto tramite un anime fatto veramente bene diventerà secondo me un vero caso da studio cioè un case history secondo me un domani notate il grandissimo entusiasmo di Christian Posocco che appunto è publishing manager ma è colui anche che appunto come ci raccontava portava conduce le trattative con l'Oriente porta quindi lui sa il giapponese tendenzialmente sì a Nasino sì comunque il tutto è appunto è evidente proprio l'entusiasmo proprio la foga che c'è e questo sta andando avanti con la conversazione ed è inevitabile parlare del secondo passaggio per lo meno Kaiju numero 8 anzi per Kaiju numero 8 a Milano è stata in basa una metropolitana cosa che a Roma tra l'altro in pianta stabile si è fatto c'è Zero Calcare a Rebibbia e se non sbaglio a Ionio a Libia c'è a Panda Piace però una una promozione anche per l'uscita della serie di Zero Calcare esatto anche gli ARF hanno invaso occupato raccolto e decorato molte stazioni della metropolitana ma a Porta Nuova anzi a Porta Genova a Milano c'è stato appunto tutta la stazione è stata presa dai Kaiju e quindi hanno realizzato una sorta di inserzione espansa con tutto a tema Kaiju compreso il primo capitolo tutto interamente leggibile mentre aspetti la metropolitana una cosa molto da lettore metropolitane però appunto era un unicum specialmente per una casa editrice che appunto è la terza realtà per vendite in assoluto cioè Mondadori Enaudi e Star Comics quindi per darvi anche la la grandezza di una casa editrice indipendente perché sì è molto grande però appunto questo questo esperimento è stato il primo di una promozione così mostruosa e quindi l'emozione l'entusiasmo ha preso proprio il sopravvento quando gli ho chiesto proprio ma come vi è venuto in mente di fare una cosa noi abbiamo subito puntato alla primavera 2022 per l'uscita perché volevamo attendere di accumulare un po' di volume usciti in Giappone in modo da dare poi una cadenza non troppo dilazionata nella pubblicazione italiana perché se un appassionato è in grado di aspettare anche 4-5 mesi tra un volume e l'altro un pubblico più mainstream che magari vede il fumetto più come una forma di svago momentaneo ma poi non va ad approfondire ad andare in internet a scrivere a leggere in questo tempo rischia di dimenticarselo per quanto gli possa essere piaciuto quindi una serie che ha aspirazioni proprio ultra mainstream così pop come Kaiju secondo noi era bene pubblicarla dall'inizio con un ritmo abbastanza ravvicinato e quindi abbiamo aspettato e aver aspettato cosa ha creato ha creato che nel frattempo si è montato questo hype pazzesco perché in America è andato benissimo in Francia è stato il fumetto più venduto la settimana d'esordio penso anche in Italia francamente in Francia hanno fatto quella cosa fighissima sulla biblioteca nazionale de France e quindi noi che facciamo con Kaiju abbiamo cominciato a ragionarci avevamo diverse possibilità non sapevamo bene che però eravamo un po' in difficoltà dal suo punto fra le varie idee a quel suo punto è arrivato il responsabile del marketing Renato Franchi e abbiamo detto guarda c'è questa situazione con Kaiju che aveva un progetto di comunicazione grande però non abbiamo ancora trovato l'idea giusta nel ventaglio che abbiamo considerato tu hai qualche idea qualche alternativa e lui ha portato quello che in realtà non osavamo neanche sognare che è la metropolitana la giapponese che in realtà era un po' il sogno ma non osavamo sognarlo già adesso e lui se l'ha fatto sognare guarda facciamo così bene fighissimo questo è proprio la gioia bambina di Cristian Posocco che racconta la promozione straordinaria di questo appunto tra l'altro primo volume quindi non si sa come andrà in questo momento fonte la lettura se non sbaglio Kaiju numero 8 e la posizione 8 o 9 dei volumi in totale più venduti in Italia la settimana scorsa beh tieni presente che è anche uscita la dozzina dello strega quindi appunto è stato pressato dall'alto da rientri in classifica poi ci sono tutti i libri sulla Russia sull'Ucraina anche adesso ovviamente si cavalca il fenomeno editoriale quindi c'è anche quello tutto questo porta molto spesso a vedere dei manga sia Star Comics che di altri editori presenti in classifica questo è anche indice di grandissima attenzione dei lettori ma anche delle librerie e molto spesso durante appunto le nostre conversazioni tra l'altro le faremo tra poco con due librerie indipendenti anche le librerie indipendenti devono cambiare leggermente la loro proposta e portare qualche manga all'interno della loro esposizione anche se appunto magari tradizionalmente non erano non erano soliti averli questi questi albi è successo per i fumetti per le grafic cambiandoli un po' leggermente il nome come graphic novel però effettivamente anche questo è un dato dato da fotografare da realizzare da inserire nel contesto in cui appunto potrebbe tranquillamente deflagrare questo questo caizzo numero 8 ma anche tutti gli altri tra poco inizierà il romics e molto molto frequentemente il anzi no sta proprio iniziando in questi giorni è molto frequente vedere manga a romics rispetto a delle graphic novel ultimo inserto è dedicato proprio alle librerie perché è proprio un dato di fatto che appunto c'è più letteratura orientale questo tipo di letteratura orientale all'interno delle librerie indipendenti anzitutto sono molto molto felice che tu l'abbia chiamata letteratura mi piace questa definizione anche se non tiene conto poi dell'aspetto grafico ma è comunque uno storytelling con una forte impronta culturale per cui è letteratura mi piace mi piace moltissimo diciamo che le librerie indipendenti io credo che siano the final stage l'ultimo livello di questa evoluzione che stiamo compiando negli ultimi anni adesso è facile e quasi ovvio trovare immense sezioni dedicate al fumetto e soprattutto al manga con esposizioni da favola nelle grandi librerie di catena ma è un risultato che abbiamo lottato per raggiungere e che adesso paradossalmente sta aiutando anche le fumetterie perché i manga hanno questa visibilità a un pubblico mainstream molto vasto e stanno venendo scoperti da chi prima non sapeva neanche che esistessero le fumetterie e che esistesse questo tipo di cultura i tanti quarantenni li vedono per la prima volta e ricordano quell'immaginario che hanno amato nei cartoni materiali anni 90 e si commuovono e li adorano allo stesso tempo i loro figli li adorano perché è un linguaggio molto potente che evoca emozioni molto forti che sa parlare la loro lingua questo era Cristian Posocco publishing manager di Star Comics l'abbiamo sentito insieme alla direttrice responsabile editoriale Claudia Bovini a proposito di case numero 8 ma anche in più in generale di questa ondata di mangi in Italia sì esatto esatto e io direi mettiamo un po' di musica così diciamo agevoliamo il passaggio verso la prossima intervista vi ricordiamo il nostro numero di whatsapp per le 515241101 che vi servirà poi anche per indovinare come sempre l'audiolibro della settimana